The Royal Family ha annunciato una serie di tour reali quest'anno per celebrare il Queen's Platinum Jubilee. Ecco una sequenza temporale di dove andrà ogni reale e quando, dopo il viaggio di successo di Kate, duchessa di Cambridge in Danimarca questa settimana, Buckingham Palace ha annunciato quest'anno una raffica di tournée del Giubileo di Platino all'estero per diversi membri della famiglia reale. . Ecco la cronologia completa di quando e dove ogni reale segnerà i sette decenni del Regno della Regina nel 2022. Cronologia del tour reale 2022. Il principe William e Kate, duchessa di Cambridge, in visita ai Caraibi, in tournée in Belize, Jamaica e Bahamas dal 19 al 26 marzo. Secondo Kensington Palace, Kate e William esploreranno la biodiversità del Belize durante la loro visita, in linea con l'agenda ambientale reale di William e Kate. . I Cambridge visiteranno anche i siti storici Maya, oltre a celebrare la ricca cultura della comunità garifuna in Belize. Una portavoce di Kensington Palace ha dichiarato, durante la loro visita, il duca e la duchessa coglieranno l'occasione per commemorare il Giubileo di Platino di Sua Maestà. Il loro programma toccherà anche una serie di temi che sono vicini al cuore delle loro altezze reali e un obiettivo chiave del loro lavoro con la Royal Foundation, tra cui il premio Earthshot. . La salute mentale e l'importanza della prima infanzia per i risultati per tutta la vita. Ha aggiunto, le loro altezze reali non vedono l'ora della visita, che sarà il loro primo tour ufficiale all'estero congiunto dall'inizio del Covid-19 nel 2020. Il duca e la duchessa sono anche desiderosi di saperne di più sull'impatto della pandemia di Covid-19 sui Caraibi e su come le comunità hanno affrontato. La portavoce ha aggiunto, come per le precedenti visite all'estero, il duca e la duchessa hanno chiesto che questo tour consenta loro di incontrare quante più persone locali possibili. . 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